buongiorno amici del canale ben tornati anzi perché buongiorno buona sera o anzi meglio buonanotte data l'ora e comunque stiamo per arrivare sul luogo della nuova indagine quindi modalità Sherlock Holmes e vediamo cosa troviamo di bello a questo giro voi mi raccomando ricordatevi di mettere like a questo video iscrivervi al canale per voi è gratis e a me invece da tanto tanto supporto ora non vi anticipo niente e ci vediamo quando siamo dentro la location buonasera amici siamo arrivati questo è il posto che visiteremo questa sera è l'una di notte tutto va bene per ora e vediamo questa avventura che cosa ci regalerà let's go comunque buonasera a tutti io sono Erika e se avete voglia di parlare con noi questa sera siamo qua non ho ne idea non ho trovato assolutamente nulla a parte della menteli del comune che è rimasto così non ho trovato assolutamente nulla a parte della mac drive quindi sarà una mensa una cucina mi vedono le luci oh che sensazione ecco Buongiorno a tutti 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 Luigi? Luigi, è possibile? No, ma Gigi è Luigi. Sei qua vicino a noi? Sei in una di queste camere? Hai sentito il rumore? Sì. O questa è camera tua? Il comodino. Sei vicino al comodino? Ci fai un rumore? Mi fai un rumore? Sbattuto una porta o una finestra? Impedante. Sei stato tu? Assasino. Dimmi. Assasino. 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 In questo luogo c'è stata una saschia? Siete stati in questo luogo? Siete stati pazienti, ricoverati? Sì. Pazienti. Si lo viste? Sì. Pazienti. Siete stati bene, figli? Per voi questo luogo è stato un posto sicuro? no. Allora e ringrazio. Siete stati. Ho appena e ringrazio. Vista vanno fastidio? ok anche per oggi ce la siamo portata a casa questa avventura voi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale mettere like aspetto i vostri commenti qua sotto e ci vediamo alla ciao